Quindi quello che faremo adesso è mostrare una delle tante cose che siamo andati ad aggiungere piano piano, per farvi vedere poi in dettaglio di cosa stiamo parlando. Per la prima volta siamo riusciti a integrare dei dati, questi dati sono i dati delle ricerche aeree, questi dati poi verranno ampliati ancora di più nei prossimi mesi, e che succede? Che stiamo cercando, cosa abbiamo cercato di fare? Di capire effettivamente quante persone stanno ricercando una località e immettere questi dati anche nel sistema di analisi dell'algoritmo, per capire quella che è effettivamente la vera pressione sulla località. Infatti come vedete sulla destra ci sono stabilendo, in questo caso io sono un po' raffreddato, però volevo esserci assolutamente a questo meeting, a questo evento, per cui scusatemi, non è, è un'influenza, io sono sempre ammalato d'inverno, per cui non è niente che possa essere percepito come differente, e mi scuso l'anticipo per questo. Per quanto riguarda Libra adesso siamo sulla schermata in cui vediamo tutti i voli in arrivo, le ricerche che vengono effettuate per Ciampino-Fiumicino, che è prendendo in considerazione un albergo che è basato a Roma. Sulla destra abbiamo l'opportunità di vedere quali sono i principali paesi da cui partono queste ricerche. È possibile, sulla destra vedete la percentuale di scostamento rispetto al periodo selezionato, nel senso, se selezionate una settimana il sistema automaticamente vi farà vedere la variazione di ricerca rispetto alla settimana precedente. Se cercate un mese vi farà vedere il mese precedente e così via. Questo è per dare un po' una panoramica anche in termini di visualizzazione di quello che sta accadendo e di quello che potrebbe accadere sul futuro. Mentre in basso l'altra schermata è più, diciamo, da un punto di vista concettuale più operativa. Qui abbiamo la possibilità di vedere i dati allineati con il PMS, nel senso, rispetto ai dati del PMS noi riusciamo a capire le nazionalità in questo caso, noi riusciamo a capire se stiamo sovrastimando o sottostimando un particolare mercato. In questo caso, là dove vediamo mercati potenziali, c'è grande margine che quei tipi di mercati siano sottostimati dall'hotel, nel senso non sta intercettando la fetta di competenza a cui potrebbe accedere l'hotel e quindi ci sono opportunità in questo caso. Naturalmente questo è un hotel demo e i dati non corrispondono puramente alla realtà, ma dal punto di vista esplicativo ci fa capire bene come i nuovi dati che stiamo piano piano andando ad integrare creano qualcosa di assolutamente interessante dal punto di vista del marketing, ma anche dal punto di vista proprio di revenue, capire la pressione della domanda totale è sempre rappresentata un po' una chimera nel revenue manager. L'idea è che noi comunque piano piano stiamo arrivando e soprattutto dai primi che stiamo arrivando a questa fase ci riempiono d'orgoglio.